Una delle novità fondamentali di questa iniziativa che la contraddistingue dalle altre è proprio l'occupazione della bellezza di questi allestimenti di tutto il centro commerciale per una settimana intera fino all'11 di questo mese e dove in tutti i corridoi e in tutti gli spazi si può ammirare l'abilità di questi professionisti del settore fotografi, abiti da sposa, torte e molto altro ancora in tutto il grande allestimento, in tutti i due piani di questo centro commerciale e soprattutto delle sue piazze al coperto che cominciano ad assumere sempre di più un valore sociale la città comincia a vivere veramente questo centro commerciale come una seconda piazza grande come una seconda piazza centrale e così anche la fiera Sposi si ammoderna, si alleggerisce in un certo senso dei suoi allestimenti e assume una caratteristica molto più diretta con il pubblico molto più pratica perché una persona viene qui per tante altre cose e soprattutto credo che abbia avuto anche un grande successo per gli espositori e per la capacità di assumere un pubblico a tutto tondo che magari in altre situazioni è più difficile da mantenere dove si punta più al pubblico specializzato di questo ne parleremo anche con gli allestitori ma proseguiamo il nostro percorso attraverso i corridoi di questo centro commerciale Quella che stiamo per vedere è la piazza centrale di questo centro commerciale e sarà una vera festa per gli occhi un esempio di quello che queste aziende, i professionisti di questo settore sono in grado di proporvi andiamo a scoprirla Ed entriamo nel vivo della piazza centrale di Latina Fiori dove l'allestimento raggiunge il suo culmine l'occhio del visitatore sarà sicuramente catturato dalla grande bellezza dalla grande capacità di inserire questi allestimenti in un contesto così complicato come la piazza di un centro commerciale e di renderli meravigliosi e dunque questa è una dimostrazione di quello che queste aziende queste grandi professionisti del settore sia quelli che abbiamo visto negli allestimenti nei corridoi sia qui sono in grado di fare per il vostro matrimonio noi di WeTV insistiamo sempre il matrimonio è una serie di scelte, una serie di dettagli sono tante piccole e grandi scelte ma è soprattutto un lavoro artigianale dallo svolazzo di una grande torta come questa al ricamo in un abito alla scelta dell'allestimento in un ristorante tutto deve essere perfetto devono essere piccole e grandi scelte l'artigianato delle emozioni e nulla come il giorno di un matrimonio deve essere perfetto deve essere unico deve essere speciale grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.